buongiorno a tutti sono giovanni covini e questo è il cinema dentro di te il podcast di chi ama mettersi nei guai degli altri per provare a risolvere i propri questa è la quinta di otto puntate dedicate agli otto passi che un personaggio deve compiere per attraversare una storia nelle puntate precedenti abbiamo approfondito il desiderio inconscio del personaggio il desiderio conscio la scoperta del nemico e la conseguente guerra la puntata di oggi è dedicata al quinto passo perché una guerra può essere anche lunga lunghissima non finire mai ma a un certo punto arriva il momento della battaglia decisiva questo momento oggi è quello che cercheremo di esplorare il più possibile ci sono nella vita dei momenti di definizione o tu definisci il momento o il momento definisce te così roi mccavoy detto team cup si esprime nell'omonimo film di ron shelton del 1996 ha il volto e la voce di kevin costner e devo dire che mentre lo dice sembra piuttosto convincente la battaglia decisiva si presenta come uno di quei momenti indietro non si torna più e la soglia è vicina non sappiamo in quale direzione andremo ma sappiamo che da qui a pochissimo il nostro destino cambierà per sempre ecco di tutte le fasi credo che abbiamo percorso fin qui le fasi narrative credo che questa sia proprio la più difficile perché cozza contro un tempo come il nostro perché all'irrefutabilità noi non siamo abituati e perché è nemica anche del narcisismo che credo contraddistingua un po' il nostro tempo cioè noi parliamo un po' come dire figurati se non c'è rimedio a questo figurati se non si può tornare indietro da quello il nostro rapporto con i cambiamenti definitivi non è dei migliori poi ci sono anche altri aspetti cioè non so i videogames in cui abbiamo molte vite ma anche i finali di molti dei nostri film che raddrizzano no premesse che non sembravano poter essere raddrizzate se non con un colpo di mano no con un po di furbizia dalla pubblicità piovono rassicurazioni sul nostro benessere perpetuo sulla salute che sarà una passeggiata sul futuro che sarà uno spasso diciamo fino all'ultimo respiro ecco tutto lavora per tranquillizzarci e pensate un po' anche ai morti tipo con la guerra o con gli attentati ecco nelle foto vengono coperti con un lenzuolo si dice per rispetto no non si capisce bene rispetto di chi né che cosa abbia da nascondere una persona uccisa cosa è una vergogna in un attentato in una guerra essere una vittima è una vergogna dico che forse il lenzuolo sarebbe da mettere certe volte sul volto di chi ha ucciso più che sul volto di chi è stato ucciso quindi stiamo veramente parlando di rispetto o stiamo parlando di protezione dal dolore degli altri cioè di quello che dicevamo all'inizio di questa soglia dell'irrefutabile la morte no che non vogliamo avvicinare cioè dell'irrefutabilità non siamo amici nemmeno di quella che capita agli altri perché ci rimanda a ciò che capiterà a noi ora la battaglia decisiva che cosa fa se è decisiva decide e decidere significa tagliare via è un termine che è nato con il taglio di spada che alessandro manio fece del nodo gordiano per poi diventare imperatore il taglio di spada decide ciò che non è altrimenti dipanabile e esprime la nostra esigenza di venire a capo delle cose di chiudere i sospesi di definire il mondo e noi stessi poi in realtà di fatto alessandro manio non risolve il problema perché in realtà lo distrugge no decidere recidere porre inderogabilmente fine a qualcosa e difatti si sente nel colpo di spada la forza di un archetipo che è l'archetipo del distruttore la battaglia decisiva distrugge qualcuno quello che si attiva in noi questo distruttore ci salva quando non c'è altro modo per uscire da un tempo o da una relazione o da un qualsiasi tipo di storia che cos'è il distruttore perché c'entra così tanto con la battaglia decisiva perché appunto è la nostra forza di porre fine di radere al suolo però se è un distruttore illuminato sa di poter distruggere con amore con amore impossibile no eppure sì senza violenza certe volte distruggere un contesto serve a liberare quelli che ne facevano parte soffrendo non riuscendo a uscirne essendone vittime perpetue ecco quindi a volte è vero che il colpo di spada decide distruggendo ma arriva a distruggere il nodo gordiano dopo tutti i ragionamenti possibili dopo tutti gli sforzi possibili che possiamo aver fatto cioè rappresenta la nostra esigenza di andare comunque avanti nella vita anche quando sembra che non se ne possa uscire da nessuna parte rappresenta anche lo scacco del ragionamento delle parole della comunicazione ci sono limiti oltre i quali nessuna via di comunicazione sembra più praticabile lo sappiamo tutti quei conflitti che arrivano a un'esasperazione dove le hai dette tutte no che ne so anni di eventi relazionali traumatici come tradimenti cambiamenti ambiguità ecco in alcune situazioni la battaglia decisiva viene chiusa grazie a dio da questo colpo di spada che libera tutti e resetta il mondo e qui però il punto è che rispetto a questa possibilità di soluzione il nostro tempo si presenta particolarmente fragile cito e non è la prima volta ivano fossati e dopo centomila ore non c'è un minuto di più e se una sindrome abbiamo nel nostro tempo è quella di peter pan l'eterno bambino che non riesce proprio a invecchiare che è contrario di ogni battaglia decisiva perché se ci pensate è anche tra l'altro una sindrome di cui andiamo quasi fieri no come per dire che a noi il tempo ci fa un baffo che siamo entusiasti e vitali come il primo giorno che siamo anime splendide pronte a godere la vita e per niente intenzionate alla fatica della costruzione peccato che noi non ci riconosciamo nelle cose che evitiamo evitiamo l'invecchiamento evitiamo il tempo evitiamo il trascorrere no perché siamo dei fantastici peter pan ma ci riconosciamo al contrario in quello che facciamo supponiamo un alcolista che riesca a non bere ciò che lo determina non è il non bere ma è il resistere questo è veramente ciò che fa lui diventa quello che resiste non quello che non beve capite come è qualificante di un'identità di una natura peter pan sostanzialmente fa il contrario perché lui sostanzialmente non fa e vive nella paura che la vita possa chiedergli un giorno di cominciare a fare lui non si incastra in nessun tipo di clausola relazionale sociale e se può neanche professionale e il suo continuo giocare che è l'unica azione veramente attiva che fa è un modo di evitare un modo disperato di evitare temporeggiare derogare posticipare indugiare tutti i contrari di decidere tutti i sinonimi del nostro tempo tutti i sinonimi di peter pan tutte azioni che peter pan conosce benissimo nel suo tentativo di non farsi definire e di rimanere una perpetua possibilità irrealizzata perché perché quando una si realizza vuol dire che le altre non si realizzeranno più e questa cosa vuol dire morire a delle possibilità e per peter pan è inconcepibile e quindi abbiamo chiuso il cerchio e possiamo tornare a team cap ci sono nella vita dei momenti di definizione o tu definisci il momento o il momento definisce te ecco però quando parliamo di definizione rispetto a una battaglia decisiva non possiamo non pensare alla definizione che ogni guerra fa di chi l'ha combattuta vincitori e vinti la battaglia decisiva è vincere o perdere sopravvivere o morire ma in una vita non è sempre facile riconoscerla la battaglia quella che chiude tutta una guerra che decide sei vinto sei perso a volte ti rendi conto di averla combattuta anni prima e magari mentre la combattevi non ti rendevi neanche conto della sua importanza strategica e questo è l'ultimo pensiero che mi piace visitare una domanda che cosa decide veramente la battaglia decisiva sia che vinciamo sia che perdiamo decide quello che decidiamo noi perché il valore del percorso lo decide il personaggio sappiamo tutti che ci sono sconfitte che ci hanno resi adulti botte che ci hanno migliorati e vittorie che ci hanno confusi illusi o pericolosamente lusingati vincere o perdere può anche essere perdere o vincere il contrario è la stessa cosa perché certe volte la vita decide i fatti ma siamo comunque sempre noi a decidere se quei fatti siano o meno una buona notizia facciamo ora il nostro consueto esempio per capire un po più concretamente come certe cose possano avvenire nelle storie andiamo sulla luna con neil armstrong ed entriamo in first man il film di damien chazelle del 2018 con ryan gauzzling e La battaglia decisiva Si consuma allo sbarco sulla luna La grande guerra dell'uomo Per toccare con mano i propri sogni Il piede che stampa la sua orma Sulla superficie lunare È fatta, vinto Ma proprio in quel momento Ryan apre la mano E lascia andare nello spazio siderale Il braccialettino di Karen La figlia morta di cancro Senza la quale la vita di Ryan Non riesce a trovare un bandolo e un senso Aprire quella mano È la battaglia decisiva per lui Non per l'intera umanità Che è appagata dall'impronta Sulla luna Ma aprire la mano È per lui accettare di perdere E di perdersi In un universo troppo grande Per la sua mente Inseguire il sogno della luna Si può fare Inseguire Karen No Almeno per quanto riguarda la certezza di questa vita terrena La morte ci separa per sempre Però lui decide di lasciare andare Significa che non subisce l'inevitabile Ma gli va incontro Vedi come una battaglia possa sempre essere vinta Indipendentemente dalla sconfitta Cosa fa alla fine Aprendo la mano Definisce il momento Come il momento In cui dice addio a sua figlia In un'altra costellazione di significati La battaglia decisiva Sarebbe stata quella contro il cancro E sarebbe stata persa E invece il campo di battaglia Lo decidiamo noi Lo decidono i personaggi E l'oggetto del contendere È il senso dell'ultimo colpo di spada Cioè ogni elemento è costituito Per come il personaggio lo sente Cioè ogni elemento è costituito Mi piace chiudere questo passo Sulla battaglia decisiva stavolta Con le parole di una canzone Di Francesco De Gregori Quando domani ci accorgeremo Che non ritorna mai più niente Ma finalmente accetteremo il fatto Come una vittoria Che non ritorna mai più niente Che non ritorna mai più niente